Presidente, Governo, colleghi deputati e cittadini che ci ascoltano da casa, ho appreso in questi giorni che sta per essere siglata in giunta la determina per il contratto di servizio di Trenitalia. Ho appreso, come dicevo in questi giorni, che in giunta verrà siglato il contratto di servizio di Trenitalia e che questo lo renderà immediatamente esecutivo. Ecco, io chiedo di portare questo contratto prima in aula perché la Commissione ha lavorato molto per dare un indirizzo politico. Si tratta di un contratto che investe parecchi milioni di euro e che impegnerà il Governo per dieci anni ed è importante che l'indirizzo politico che la Commissione, con il contributo di tutte le province, discutendo con i pendolari che fanno capo, oltre che ai lavoratori, agli studenti e anche ai viaggiatori che ovviamente soffruiscono dei nostri treni, venga discusse in aula. Mi fa piacere che qua oggi c'è l'assessore Falcone. Come sa, lei ha partecipato alle commissioni, noi abbiamo lavorato molto e avevamo preparato una risoluzione che non è potuta essere discussa con il Governo. Quindi reputo molto importante che questo documento venga portato in aula prima di essere approvato. Grazie. Grazie.